ecco qua vizca pronto per la gara cc per la sao per la stampa per la campestre combinata lo sei già cazzo vizie ce l'hai riuscita per la campestre vizie di fare eccolo qua rasao tecnico rasao tecnico per la campestre pronto per la gara stia sperando un pips non so chi ari cosa fate? partira palliro basta basta dopo non c'è